Oltre 14,6 milioni di italiani, il 33% dei consumatori maggiorenni, ha deciso di approfittare dei saldi partiti sabato in tutta Italia per una spesa media di 270 euro a famiglia, circa 104 euro a persona. È la stima che esce da un sondaggio condotto da SVG per Confesercenti, ma il giro d'affari complessivo, sottolinea la ricerca, potrebbe salire rapidamente. C'è infatti anche un 49% di italiani che non ha già deciso di acquistare, ma si farà comunque un giro tra le vetrine per vedere se ci sono offerte interessanti. I clienti si concentreranno soprattutto nei primi giorni, il 53% prevede di comprare nella prima settimana. Oltre alla fascia di popolazione attenta al prezzo resiste comunque un 54% di clienti che cerca la qualità e userà le vendite di fine stagione per portarsi a caso un capo ad un prezzo accessibile. I saldi si confermano ancora un evento largamente offline. La maggior parte dei clienti, il 67%, si servirà infatti di un negozio fisico per i suoi acquisti, mentre si rivolgerà all'online solo il 10%. A pesare sui negozi, ricorda l'Associazione dei Commercianti, è però soprattutto la concorrenza sleale di chi pratica saldi illegali, in anticipo sui tempi stabiliti e fuori dalle regole previste per le vendite di fine stagione. La situazione è fuori controllo, ha spiegato Roberto Manzoni, presidente di Fismo Confesercenti, che chiede più controlli. Le vendite di fine stagioni irregolari dilagano, una forma di concorrenza sleale che non danneggia solo le imprese che seguono la normativa ma anche i clienti. Si tratta infatti di eventi completamente fuori legge che non rispettano neanche le regole su scontistica e trasparenza.